come si fa ce lo vuoi dire Niko magari? ce lo conferma gli ho scritto no no Niko mi ha detto che sta finendo ah ok allora facciamolo manuale stoppa tranne tranne due e tranne tre quindi questo è il punto camera uno please prepare in the hour of the hour in the hour of the hour we are ready 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 I have 10 10 9 10 8 10 7 10 6 grazie andare in lino prima stoppa poi mi porti le schede questa si può togliere preppi le schede preppi le schede No, no, no. 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 No, no, no.